Dopo aver intensificato i controlli per il contrasto del traffico di stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Fano hanno arrestato un uomo di 55 anni originario di Sinopoli ma residente da molti anni nel comune di Frontone. In uno dei tanti posti di blocco organizzati dai carabinieri di Pergola, gli uomini in divisa hanno fermato nei giorni scorsi una Dacia Duster con all'interno il 55enne. Dopo che i militari hanno notato l'uomo agitato, hanno così subito deciso di ispezionare l'auto da dove al suo interno proveniva un forte odore di caffè, oltre alla presenza di alcuni chicchi sparsi sul pianale anteriore della macchina. Durante la perquisizione, gli uomini hanno subito notato alcune parti del cruscotto non connesse tra loro e allentate. Notando queste irregolarità, i militari hanno condotto l'auto e il conducente alla caserma di Pergola per ulteriori controlli e confermando così che in un vano ricavato dal navigatore satellitare era stato occultato un involucro di polvere di caffè dove all'interno era presente un panetto di oltre un chilogrammo di cocaina. Dai primi accertamenti, la sostanza, con un indice di purezza elevatissimo, avrebbe permesso di confezionare migliaia di dosi generando un guadagno di centinaia di migliaia di euro. L'arresto odierno, che è un arresto importante, è stato sequestrato un grande quantitativo di cocaina, nasce sostanzialmente dalla sinergia sia delle pattuglie dei comandi stazione che di quelle qui su Fano, della liquida radiomobile. Al fine di massimizzare quanto più possibile il controllo del territorio, che come sapete va dal mare fino ai confini con la provincia aquilana. Quindi un risultato importante che testimonia l'impegno dei carabinieri della compagna di Fano per massimizzare la prevenzione e la repressione dei reati in materia di stupefacenti. Inoltre, durante una perquisizione nella casa del 55enne, i militari hanno trovato un fucile senza matricola e detenuto illegalmente. Per questo, l'uomo dovrà rispondere, oltre al possesso della cocaina, anche quello dell'arma clandestina. Ora si trova nel carcere di Villafastigia a Pesa.